Prima volta per questo trofeo dedicato alla memoria di Antonio Pasquini e il Borgo a vincerlo. Una grande emozione, una grande soddisfazione. Raccontaci. È una cosa meravigliosa per il primo anno hanno messo in paglio questo bel trofeo per ricordarci Antonio. Ed è un onore averlo vinto e sapere che il primo anno l'ha vinto il Borgo. Sì, soddisfazione, felicità ammenza, grande squadra e grande pazienza e tanta voglia di vincere. Peccato che non abbiamo vinto anche l'altro. La tensione, ma va bene. Vediamo per l'anno prossimo. È stato un tiro alla fune molto combattuto. Fino all'ultimo la siete data. Tutti gli anni sempre con Civitanova. È questa tensione allucinante. Ci sta questa rivelarità meravigliosa. Amicizia, fratellanza, tutto quello che è. Ma è quella che dura veramente di più. È una cosa meravigliosa. Bello, bello, bello. Bello, bello, bello. Bravo, bravo, bravo!